Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale. Allora, in questo nuovo video vi voglio parlare di una cosa che mi è successa ieri. Però prima di dirvi cosa mi è successo, vi devo dire un po' tutta la storia per farvi capire bene. Allora, io ero molto amica di una ragazza, non farò il nome per carità perché in rete non è proprio il caso. Praticamente Diciamo che questa ragazza, per farvi capire che amicizia c'era, lei mi aveva pure invitata al suo compleanno, a passare la notte, tutto a posto, normale, a casa sua. Cioè, per farvi capire che tipo di amicizia c'era. Cioè, è una cosa proprio fenomenale Fatto sta che dopo un po' io ad aprile noto qualche cambiamento in lei, la vedo fredda e distaccata. Praticamente noto che si fa sentire sempre di meno. Io le mando un messaggio perché c'eravamo anche scambio di numero di telefono e lei non mi risponde, cioè visualizza ma non mi risponde. Dopo tipo un mese e mezzo mi blocca. Io ho un'applicazione che mi segnala quando un amico si cancella dagli amici, si blocca, si rimuove lui, praticamente roba così. E arriva questa notifica e dicono, possibile, come vado che le devo mandare un messaggio? Praticamente non posso perché mi rendo conto che lei mi ha bloccato anche lì. Su un sito, su un altro sito, lei non ancora mi aveva bloccato, le mando un messaggio lì in privato. Per carità sembri in privato. Dico, ma che succede? Lei appena visualizza, subito ho un bloccato. Io penso che una persona matura come minimo ti dà una spiegazione in tutto quello. Anche perché io vi posso assicurare che non ho fatto nulla di male. Cioè io proprio non è che c'è stato qualche litigio tra noi o altro. Dopo quattro mesi che mi aveva bloccato, quella mi sblocca un attimo, mi risponde al messaggio in cui le dicevo ciò come stai. Mi diceva, mi ha detto, preferisco non rispondere scusa. E dopo mi blocca, quindi io non ho neanche il tempo, proprio neanche il tempo di risponderle di ma che stai a dire perché ti comporti così. Cioè proprio mi blocca. Praticamente ieri cosa è successo? Stavo tranquillamente a casa quando mi vede arrivare un messaggio in cui una persona, da un numero sconosciuto, perché nel frattempo, poi vabbè ho scoperto che era sempre lei, però nel frattempo è successo che avevo cancellato appunto il suo numero perché ce ne dovevo fare tutto, quindi mi ha bloccato. E praticamente come sono andata che dovevo risponderle, già mi avevo bloccato un'altra volta. Cioè la classica persona che gioca a nascondino. Dico, vabbè vuoi giocare a nascondino, giochiamo, vediamo un po' chi sei, vediamo da dove viene e tutto. Tramite il telefono di mia sorella abbiamo scoperto che era sempre lei. Io mi sono chiaramente arrabbiata perché lei mi ha accusato, diciamo, che io sono incoerente perché mi guardo i cavallini, però allo stesso tempo nel video in cui dico che vi mostravo il costume di carnevale, dico che non era un vero e proprio costume perché ormai sono adulta. Dico, ma come si fa, c'è da tanta amicizia, un po' di colpo così, cioè la mia nemica numero uno. E va bene. Pattosta che in realtà non è che sono stata incoerente, prima di tutto perché i cavallini vedono pure persone grandi. È una cosa anche da adulti secondo me, perché è molto più di quello. Secondo, posso assicurare che a Chieti i costumi di carnevale per adulti scarseggiano, quindi io che sono adulta, giustamente non è che posso andarmi a comprare un costume di carnevale per bambini dove me lo metta una gamba, scusatemi, cioè non posso. Purtroppo a Chieti è così, quindi me la devo cavare da sola in un certo senso, e quindi è così. Pattosta che io mi sono arrabbiata, soprattutto non tanto per l'accusa in sé, ma per il fatto che comunque tu giochiando a scottire, a me le persone che si prendono un gioco di me non piacciono. Cioè tu non puoi fare così, cioè se tu giustamente mi vuoi accusare, stai comunque al gioco, non è che mi blocchi subito e lasci l'altra persona a rispondere. Allora io che cosa ho fatto? Sono andata in un sito in cui mi sono resa conto che lei ce l'aveva ancora. Come è possibile? Prima mi ha bloccato, ora mi ha sbloccato, ma come è possibile? Le ho scritto, sono stata un po' dura, le ho detto, cioè in pratica mi ha fatto valere i miei diritti, perché dico qua io ho già troppi problemi, mi manca il mio fidanzato. Soffro di pressione bassa, sono preoccupata per questa nuova influenza che arriva dalla Cina, quindi ragazzi, cioè veramente, ma non per qualcosa, ma questa qua, ho voluto far capire, ma ti prego non ti ci mette pure tu. E poi vabbè, l'ho bloccata lì, però dico soltanto una cosa, che se a te non si sta bene i miei video, non si stanno bene perché pensi che sono incoerente o altro, ma che cavolo li guardi a fa, ma tesoro, cioè ci sono miliardi di video che puoi guardare, ma non guardare i miei, cioè se a te non ti piacciono, oppure dici che sono incoerente, ma perché li guardi? Quindi, veramente è una cosa assurda quello che mi è capitato, comunque ho bloccato il numero, ho bloccato la ragazza e tutto, io veramente mi sono spaventata perché quando ho visto arrivare quell'accusa, mi sono spaventata perché era da un numero che non conoscevo, ho detto, avevo pensato, ho detto, ma questa persona come fa a sapere il mio numero? Poi alla fine l'ho scoperto, chi fosse, è chiaro che lei mi aveva bloccato per farmi un dispetto, perché di solito, allora, per come la vedo io questa persona, non, cioè per come la vedo io, se tu c'è la coscienza pulita e a posto, non hai problemi a rivelare la tua identità, però nel momento in cui mi blocchi l'identità, se ne va a farsi benedire, perché io non posso vedere più la tua immagine e il profilo, quindi non so chi sei, per fortuna che se non era per mia sorella, a questo io ancora nel dubbio, dicendo, ma chi cavolo è quella o quello che mi ha scritto? Per fortuna è tutto risolto, anche perché di solito io il mio numero non è che lo vado a dare in giro, cioè, di solito non lo do in giro, quindi quando mi sono vista arrivare quel messaggio mi sono spaventata a morte, però mi chiedo come fa una persona, la migliore amica, e se la mia peggior nemica è un mistero. Bene ragazzi, per questo video è tutto, ci rivediamo prossimamente.